Uscirà il 9 dicembre il nuovo orario di Trenitalia sulla tratta Ravenna-Bologna. Ma già il malumore dei pendolari e degli studenti della provincia di Ravenna ha fatto il giro dei social. Tante le fermate soppresse con i nuovi orari, in particolare a Godo, Russi e Classe, e sostituite con autobus. Le istituzioni insorgono contro Trenitalia, che non ha concordato e informato dei cambiamenti gli enti locali. Il presidente della provincia di Ravenna, Michele De Pascale, ha i nostri microfoni. Siamo veramente molto, molto, molto arrabbiati perché avevamo lavorato a lungo con Trenitalia e con la regione Emilia-Romagna per un risultato che per il nostro territorio è fondamentale, per il quale ci battiamo da tantissimi anni, che è dividere la linea di Ravenna dalla linea che collega la città metropolitana di Bologna, il trasporto ferroviario metropolitano. Dobbiamo cancellare dalla tratta di Ravenna tutte le fermate del bolognese che ammorbano la vita dei pendorari ravennati e che rendono la nostra tratta inservibile per i turisti. In realtà appare che Trenitalia abbia portato altre modifiche senza averle concordate. Abbiamo portato alla regione le nostre formali proteste, le mie ma anche quelle di tutti i comuni della Bassa Romagna e della Romagna-Faintina coinvolti dalla linea ferroviaria Ravenna-Bologna. Nei prossimi giorni incontreremo Trenitalia insieme alla regione per chiedere la modifica di questo orario. Grazie a tutti.